Emma Marrone felice insieme al maestro, le cose che contano Emma insieme a Franco Battiato, la dedica per il maestro. Emma Marrone, tra una pausa e laltra durante la sua vacanza, è riuscita anche a ritagliarsi un po' di tempo da dedicare alla sua più grande passione, la musica. La coach di Amici ha infatti pubblicato oggi una foto insieme a Franco Battiato e sotto lo scatto Emma ha scritto queste parole. Le cose che contano. Inutile palesare l'entusiasmo dei fan della cantante Salentina, moltissimi sono stati infatti i commenti che i suoi followers le hanno scritto sotto la foto, illogiando sia la bravura della loro idola che quella del grande maestro. Emma Marrone attualmente si troverebbe comunque in vacanza per trascorrere un po' di giornate in relax. Il settimanale di Gossip Gente ha pizzicato la cantante ad Agua Blanca, nelle isole delle Baleari, insieme ad una compagnia tutta al femminile, in cui erano presenti anche dei VIP molto conosciuti nel nostro paese. Emma Marrone al settimo cielo insieme a Battiato, il post su social. Emma Marrone infatti si trova in compagnia della sua manager Francesca Savini, ma anche Alessandra Nazca, cantautrice che aveva scritto per Emma la canzone Schiena, la bloggera Elena Zauli, e anche Gianna Nannini, insieme a sua figlia di sei anni Penelope. La cantante Salentina ha però entusiasmato tutti oggi pubblicando una foto che ha fatto sicuramente piacere a tutti gli appassionati di musica. Emma Marrone ha infatti postato uno scatto insieme al maestro Franco Battiato, sotto il quale ha poi ammesso che è sempre un piacere incontrarlo e passare con lui dei piacevoli momenti all'insegna del canto. Emma sta attualmente ultimando il suo album, che potrebbe quindi uscire prima della fine di questo 2017, numerose foto e video erano apparse in fazzi su social prima della sua recente vacanza, in cui aveva mostrato ai suoi fan di essere in sala di registrazione. Grazie a tutti!